Se fosse un film già rivisto, le cose dovrebbero andare bene, perché generalmente sono andate bene. Siamo sempre qui su FIFA 20, carriera allenatore, crotone. Perché? Voi direte, perché abbiamo il ritorno Champions con l'Atletico. E visto che in casa abbiamo pareggiato 0-0, adesso giochiamo fuori casa, generalmente fuori casa diamo il meglio. Però è da redire, perché comunque l'Atletico è tostarello, è abbastanza difensivo. Vabbè, vediamo un pochettino come riusciamo a gestire subito questa situazione. Magliette, mi sa che sarò costretto per forza a mettere questa qui. Vabbè, non mi piaceva, però non fa niente. Come ci mettiamo in campo? Questo è un problema, perché ultimamente ho notato che Barbut sta calando, eh. Sta calando veramente tantissimo. Potrei mettere Godin, che mi sta dando cale soddisfazione, però non vorrei rischiare così tanto. Comunque dobbiamo essere un po' più propensi all'attacco, perché se no non ce la faccio. A difesa, io farei giocare Panso, perché Ranieri... Non lo so, Ranieri non mi dà tutta sta fiducia. Vito me lo porto, eventualmente facciamo così, guardate, perché così sono un po' più tranquillo. Mi voglio portare Zanellato al posto di Fontana e giochiamo così, dai. Io non so quante occasioni ti sto dando e non so neanche perché. Beh, veramente lo so il motivo, perché non ci abbiamo giocatori. Occhio. Bella Pogba. In assoluto, ma che si presta parecchia interpretazione, sono curioso di vedere cosa... Vai! Eh sì! Guarda, Enzo è incredibile, guarda. È incredibile, cioè... È il più grande acquisto, secondo me. È il giocatore più completo. Guarda lì, vada che azione. Tac, tac, l'egoismo, porta vuota. Guarda lì, bom, bella botta. Difficilmente sbaglia. Bom, coordinazione, bel tiro angolato e abbiamo già sbloccato... O devono fare due gol loro, eh. Ok. Sempre lui, sempre Enzo. Andiamo, ce ne crocià. Passa subito, passa subito. Vai, vai, Demenses, vai. Se facciamo un secondo gol, è fatta. Vai Martieli? Sì, babbo. Vabbè. Cioè, io non dico che... Non dico segna. Però... Almeno metti in difficoltà il portiere. Attenzione, che questi hanno proprio... Si sono svegliati, eh. No! Ci ha parato. Fado attenzione perché... Abbiamo... Il sostegno di FIFA. Eh, l'abbiamo messo in difficoltà, eh. Occhio. Occhio. No! Mamma mia. Guarda che ce la puoi fare adesso, eh. Vai Martieli. Sembrava quasi fallo, eh. Attenzione. Barboot. No, sposa. Eh, crociata. Non tenendo la crociata. Oh! Che mazzo! Eh, vai, l'ha preso ormai. Ok, bravo. Passa subito, Enzo, guarda. Vado, Enzo. No. Ok, ok. Chiudi, chiudi, chiudi. Aiaiaiaia. Che cos'è? Giallo? Ma è punizione, però, eh. Fa niente, fa niente. Allora, io mi metterei qua, eh. Perché questo... La tira. Eh, appunto. Bella, eh, vabbè, raga. Mica sono nato altro ieri, eh. Mamma mia, che pavola. È buona, è buona. Bravissimo, crociata. Bravissimo, crociata. Eh, mi dispiace. Ma... Ma... Solo meritava, crociata. Ha fatto una finta spettacolare. Crociata dalla serie B, l'abbiamo portato. L'abbiamo completamente rivoluzionato come giocatore. Perché praticamente questo è un centrocampista offensivo centrale. L'abbiamo fatto diventare un esterno... Un esterno destro potentissimo. Guarda che zappatello, guarda. Bravo, crociatino, bravo. Ormai è impossibile. Sta facendo un finale di stagione strepitoso. È gol. Mi dispiace. Bravo Godin. Segna anche lui, ragazzi. Questi hanno fatto un partitone all'andata fuori casa strepitoso. Poi, in chiasa, ploff. Voglio vedere pure. 3 a 0. Mamma mia, che castagna. 3 a 0. Eh, mi dispiace. Che deve fare? No, anche me stai in dubbio. 3 a 0 fuori casa. Mamma mia. Ho fatto un partitone strepitoso. Ma diciamoci la verità. Non c'è stata proprio partita, secondo me. Abbiamo fatto... Ah, ma sette tiri, però. Possessi la palla 50-50. Eh, pensavo di aver giocato molto meglio. La Roma è passata. Sapete che non mi ricordo la Roma che ha fatto a ritorno? Eh. Non mi dite che ci sta il finale Roma? No, semifinale. Roma... Eh sì, la Roma è passata. Ha passato anche... Ma il Cielo e il Paese del Medio non ancora giocare. Vabbè, vabbè. Almeno uno dei due dati forti dovrebbe andare fuori. Ma, meno male. Non facciamo Italia-Italia, eh. Però, per cortesia, non mi fate vedere queste cose. Intervista. Che parlate? Spagnolo? Che gustaria? Perché la Rini non ha giocato? La competizione aiuta. Complimenti per aver raggiunto la semifinale di UEFA Champions League. Cosa ci provavano in questi momenti? Abbiamo tutte le carte regola per andare in finale. Da, ormai, ormai, ormai. Una vittoria agevole contro i corsiati dalla squadra. Cotone crede che sarebbe voluta finire diversamente oggi? Ora, dobbiamo pensare alla prossima partita. Grazie a te, è verrà. È meglio che stiamo con il più divertente perché lo sapete. Allora, ufficio. Che vuole l'ufficio? Giocatore squalificato. Chi? Oh. Ma perché? Quanti cartellini ha preso Mandai? Ma quando mai? Come ricordate, Mandai che sarà squalificato per assumere le munizioni e non sarà a disposizione. Ma noi non prendiamo mai cartellini? Ma. Sono contento che il mio lavoro all'interno della squadra si sia riconosciuto. D'ora in avanti potrò concentrarmi solo a fare bene. Mostra di valere quella cifra. Sì, non mi ricordo neanche. Vabbè, ci abbiamo ufficio ancora. Premio torneo? Eh, va bene, grande ragazzi. Anche un altro premio. Era quello che ci interessava. No, niente. Premio, quanto ci date? Premio 10 milioni. Secondo me ce la facciamo abbondantemente. E a ritornare un'altra volta... Sì, sì. Secondo me ce la facciamo a fare l'obiettivo. Non ce la facciamo arrivare fino alla fine. Ma sì, così va bene. Esposio non sta molto stanco. E io lo farei comunque giocare. Anche se c'è Vito abbastanza in forma. Io Barbut lo faccio giocare ancora. Perché lo voglio far giocare. Facciamo giocare sicuramente. Mané a posto di crociata. Faccio giocare... Zanellato. Rodriguez sta ancora col cerotto. Ma quando te lo togli sto cerotto? Echia, mamma mia. Van Dijk. Lo facciamo un pochettino riposare. Perché è sempre meglio. Faccio riposare anche Barzunu. Se no mi si stanca. Godin me lo porto per il secondo tempo. Magari eventualmente. E facciamo giocare anche... No, io facciamo così, guardate. Faccio giocare Agi e Pogba. Inverto da questa parte. Non voglio rischiare troppo. E poi magari facciamo qualche cambio. Dai. Dai. Espo. Ma non segni più. Che è successo? Capezzi. Ok. No. Mamma mia, raga. Mamma mia. Quanto abbiamo rischiato qua. Guarda che peccato mi stavi già in fuorigioco. Dai pull, dai. Sistema tu un po' la cosa. E andiamocene. Ok. Guarda c'è un barbutto che secondo me... Hai visto? Dai, barbu, forza. Dai, dai. Svegliati, barbutto. Non ti incazzare. Dai. Chi è che batte Demences? Vai. La classe è in mezzo a cercare la testa di un compagno. Potrebbe crozzare. Oh. Occhio da lì. Fuorigioco. Si sblocca. Tipo si impazziti. No. Non è fuorigioco. Non è possibile la loro gioia. Che mazzo. Eh. Scusate, pensavo fuorigioco. No. Chi è che manteneva in gioco? Ah. L'uomo sul palo. Che mazzo. Ma ha quasi svirgolato praticamente. Che prende palla. Bellissimo. Vattene Martini. Vai Martini. Vai, vai. Niente. È buona. Eh no. Un tocco in più. Tocco in più. Hai fatto un tocco in più. Dovevi tirare subito. Io volevo tirare subito. Invece se l'hai portata sull'esterno. Non ho capito perché. Ma buona. Non li facciamo andare per il piacentare. Non li facciamo andare per il piacentare. Porca miseria. Bella questa palla. Ok. Almeno da fermo. E William Massaro. Ah. Ehi. Mamma mia. Se segna lo siamo fottuti. Io penso. Mamma mia. Portiere grande. Qua ho rischiato tantissimo. Passa la Daci. Ok. No. Non ce la fai. Barbù. Non c'è più il fisico. Barbù. Ma ne tanto quanto. Almeno su quello. No. Vabbè. La palla la devo dare a Esposito. Comunque. Meno male. Comunque. Sempre una visione spettacolare. Barbù. Guarda che palla. Guarda. La volevo dare a Esposito. Almeno William si è riuscito a segnare. Bravo. William Massaro. Andiamoci. Mamma mia. Che palla che gli hai dato. Vai Aci. Questo era fallo. Niente. Oh ma Aci c'ha una fattura. Non segna mai. Non segna mai Aci. Incredibile. Hai voglia a farlo tirare esterno, d'interno, da lontano, da centrocampo. Non segna mai. Chiudimelo, chiudimelo. È esagerato. Portiamo a casa anche quest'altro risultato. Ora ci vorrebbe una fantastica notizia. che il Milan almeno ha un po' mollato. Che dite? Vediamo un po'. Allora, per il Milan non sappiamo ancora niente. Non ce lo dice perché poi figuati si... Se ci dava la notizia già da adesso. Facciamo prima un attimo l'intervista. E da lì almeno riusciamo a capire qualche cosa. Siamo qui con il mister che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Prego. La squadra cotone è imbattuta fin qui. Pensa di riuscire a proseguire questa striscia? E... Non deve essere un'ossessione. Prima della partita è rivelata che la squadra cotone fosse nettamente superiore alla compagine Sampdoria e questi due lo dimostrano. Mi ha pensato? Non avevo dubbi. Vi siete presi da vincere sulla... Ah, perché abbiamo perso. Allora, cosa è cambiato rispetto all'ultima partita? Ci siamo preparati meglio. Non sapevo che abbiamo perso. Vabbè. Vediamo un po'. Ma voi però dillo... Allora, lo fate apposta, eh. Siete bastardi proprio dentro. Lo fate apposta. Cioè, ogni volta... Io vedo sempre prima il crotone e poi vi fate vedere il Milan. Vabbè. Vediamo la crescita. Andiamo avanti. Vediamo se il Milan per... Ah, ha vinto. Offerta per la nazionale. Che nazionale è? Nazionale Spagna. Ammazza Spagna. Addirittura. Niente. Continua a vincere. Mamma mia. Ma lo so più, eh. Non so più che fare. Cioè... Che ne so. Rodriguez. Mi sono completamente... No, ho sbagliato. Sì. Mi sono completamente ristabilito. Veramente. Ti faccio giocare allora. Mi sono ristabilito. Frattura al dito. Spero che iniziai presto. Tornerai ma ci vorrà tempo. No, l'ho fatto giocare subito. Non è vero. Sto scherzando. Facciamo riposare anche un po' Esposito. Facciamo entrare a... No. Voglio far entrare sicuramente Martinelli. Cioè voglio dire Williams. Barbuto lo facciamo giocare perché si deve riprendere assolutamente. Allora. Rodriguez. Pare che... Puoglia giocare. Lo facciamo giocare. Eventualmente lo facciamo... Ma Mané c'ha un tempo di recupero assurdo. Ma non recupera mai. Quanto tempo ci vuole per farlo recuperare? Sono due partite che non gioca. Sta ancora con la lineetta abbassata. Carca paletta. Facciamo giocare... Faccio riposare un pochettino a Pogba. Perché sta giocando un po' da tanto. Zanellato ce lo portiamo. E lo portiamo al posto di Fontana. Voglio far riposare anche Bradishen. E lo inverto con Panso. Giriamo così dai. Speriamo di vincere. E che il Milan perde. Questa è una brutta partita. Panso come ti sei fatto fare Panso. Panso come ti sei fatto fare. Che fa... Che... Ebbè sì. No vabbè. Cioè io non ci credo. Perché dobbiamo pigliare il gol così? Cioè non è possibile che Panso si... Panso sta da tre ore. Quando poi riusciamo a beccare. Il ruolo giusto si scontrano fra di loro e si annullano. Non lo so. E fanno doppia superiorità praticamente. Cioè... Guardate là. Che fare tutti e due? Panso e quell'altro qui è crociata. Chi sa poi. Non è tanto. Bellissimo. Che gol che ha fatto Crociata. Non ci credevo eh. Non ci credevo. Che gol che ha fatto. Che gol. Bravo Crociatino. Bravo. Guarda che botta. Mamma mia. E quando segna più? Questa... Non credo che lo farà mai più in gol del genere Crociata eh. Meglio di collo pieno. Vada lì. Oh c'era quasi arrivato il portiere eh. Bravo Crociata. Bravo. Mamma però che... Vediamo se ce la facciamo. Passa la Enzo. Va. Bravo Enzo. Vai Rodriguez. Vai. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Pallone d'oro. Pallone d'oro. C'è sto ragazzo. È... È impressionante. Bravo comunque il nostro... Williams eh. Recuperata. Bravo Crociata. Guadagnia metri. Ottima la verticalizzazione. Ah. Ramani. Giocata di qualità per intercettare il quadro. Che bravo. Mamma mia. Che giocatore che è diventato esposito. Ecco. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. È buona ce la fa. Prendela. Ok. Vada su. Mané. È bravissimo. Comunque Mané. Quello che ha perso Barbutto lo ha guadagnato Mané. Parava esposito. E l'ha segnato. Praticamente ha notato che esposito riesce a segnare soltanto quando l'ala si accentra. Tipo o Barbutto o... Vedete? Poi si incrociano in continuazione. Ok. Ormai praticamente vinciamo e aspettiamo la notizia. Questa è... Cioè ormai vinciamo e aspettiamo la notizia. E Milano ha vinto. No. C'è Milano. Misera. C'è incredibile. 2 a 1. Il stesso risultato. Cioè no. 3 a 1. Cioè... Non lo so. A quanto arriveremo? A 100 praticamente. Perché ormai è così. Cioè questi non perdono più. Ormai non perdono più. Rispondere alle nostre domande. Fa giocare il risultato Mazzardo che ha pagato. Quanto ha influito il suo rientro sull'alto? Perché? È ripartito col piede giusto. Non ha fatto una grande partita però. La squadra non è imbattuta fin qui la sera. Pensa di riuscire a proseguire questa striscia. C'è un motivo se siamo imbattuti no? Credo che la squadra adesso si sia intimidita dalla formazione cronica. Considerata che eravate nettamente favoriti. Preferisco non rispondere. Abbiamo finito. E ciao. Mamma. E niente da fare raga. È 87-84. Sempre lo stesso. Cioè... Non riusciamo praticamente a racchiapparti. Perché... Questi vincono sempre. Ci vediamo se è proprio subito. Bye. Ciao. Ciao. Ciao.